Ubriaco, abgredisce una barista perché vuole bere gratis. Grave fatto accaduto ieri mattina a Villa Dossola a chiamare i carabinieri è stata una donna che lavora in un bar del posto, raccontato di essere stata aggredita da un uomo straniero che già alterato voleva bere senza pagare. A rifiuto della donna l'ha colpita più volte al viso e poi se n'è andato. All'arrivo della pattuglia del radiomobile il soggetto non c'era più. La donna sotto shock è stata a soccorso e trasportata al San Biagio. I carabinieri si sono messi alla ricerca dell'aggressore e lo hanno trovato qualche ora dopo vicino a un altro bar di Villa Dossola. Alla vista dei militari ha cercato di fuggire ma è stato bloccato dai carabinieri nonostante abbia opposto resistenza. Addosso aveva due grossi coltelli da cucina di 33 cm ciascuno. Non ha saputo dare valide giustificazioni per la presenza delle armi. Oltre a essere ubriaco è risultato un abituale assuntore di stupefacenti. È stato portato in camera di sicurezza in caserma a Domo Dossola. Questa mattina è comparso in tribunale per la convalida con l'accusa di resistenza pubblico ufficiale e porto ingiustificato di oggetti atti a offendere. Per la donna qualche contusione guaribile in alcuni giorni oltre al grande spavento.